E ragazzi, come va? Io sono FiriNiki e io sono Tefe, che si chiama TowerUnite! Ed eccoci qui finalmente con il tanto atteso secondo episodio di TowerUnite. Ovviamente siamo pronti a continuare la nostra convivenza con EspiGiochi e Luca. Esattamente! Allora, questo episodio secondo me sarà molto 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 migliore rispetto al primo, perché dobbiamo fare diverse cose importanti. Dobbiamo andare a comprare il bagno, la cucina, le camere da letto, dobbiamo fare qualche soldo e fare anche la spesa per il cibo, perché ovviamente dobbiamo anche pranzare e cenare. Quindi potete già immaginarvi che cosa sarà andare a fare la spesa con Fere, Espi e Luca. No, con Espi, non con me, con Espi. No, Fere, anche tu ti ci sei messa... No, non andiamo avanti. Posso fare uno spoiler? Buona visione! Ragazzi, che cosa ci fate in piscina? Dobbiamo lavorare! Che bella giornata oggi! Ah, che bello! No, Steph, non lo sai, ma noi abbiamo già lavorato, sì, siamo già a posto. Allora, se è vero, ditemi quanto avete guadagnato. Io mille. Mille, mille, mille. Ma siete dei poveracci, io quattromila. Come, Luca? Quando gli hai guadagnati tutti sti soldi? Ma lui si è venduto le ossa. Eh, avevo giocato un po'. Ecco perché è così, ecco perché è così. Allora, 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 allora. Quindi quattromila, mille e mille. Oddio. Non è male, ma potevate fare di meglio. Però anche io ho guadagnato mille, quindi... Ah, allora non ci criticare, dai, non ci criticare, Steph, su. In ogni caso, allora, la giornata è strutturata in questo modo, ho deciso io per voi. Prima di tutto, decidiamo, andando in giro per la casa, che cosa è necessario comprare. Perché al momento, in tutta la casa, c'è un vaso. Quindi capite bene che abbiamo bisogno di arredare la cucina. Fa schifo quel vaso, perché determina che voi avete quelle camere che non vi meritate. Ah, è per questo che è il più bello di sempre. Comunque, ci servirà di sicuro la cucina, il soggiorno, dei letti dove dormire, eccetera, eccetera. Però, prima di fare quello, ok, potete scegliere una cosa a testa, inutile, che volete. Perché tanto io lo so che me ne chiederete duecento. Lo so, lo so. Prendiamo un altro vaso, un altro vaso blu. Allora, aspettate, aspettate. Posso dirlo? Per favore, una alla volta. Per favore, una alla volta, perché devo scrivere in una lista. Quindi, Fere, dimmi per prima, vai. Una pistola! Una pistola? Con una pistola? Con una pistola. Ma almeno c'ha il porto d'armi. La signorina è precolosa. Io non lo scrivo, io non lo scrivo. Fere! Allora, un sacco da box! Fere! Come? Qualcosa... I quantoni, almeno, neanche? Perché? Qualcosa che puoi mettere in camera, per favore. Un cannone? Un sacco da box! Fere! Grazie, Espi, un cannone, allora! Allora, io... Boh, me ne vado a fare un altro lavoro. Non lo so. Ma non è che la dobbiamo iscrivere in palestra, così almeno si sfoga lì? Eh, mi sa che, Espi, conviene, perché altrimenti ci passi tu, eh. Ci passi tu, prima o poi, io te lo dico. Eh, perché sai, a furia di... Se tu che sei in camera con lei, noi siamo al sicuro dall'altra parte. Aspetta. Io non ci sono più. Dai, non lo so, scelgo il negozio, allora. Mi hai bocciato tutte le idee, sinceramente non so cosa vuoi. Espi e Luca, avete qualche idea, invece? Allora, pensavamo a un vaso rosso, ma forse un po' troppo banale. Ok. Un bel letto matrimoniale. Un bel letto matrimoniale. No, no, Luca! Ma quello è delle cose fondamentali, letto. È vero, è vero. Quindi non conta. Matrimoniale era una cosa in più, perché dovrebbero avere due letti singoli, eh. Di cose decoratorie. Vabbè, ragazzi, ragazzi, io ho capito. Un bel letto? Sì. Un bel letto. E lo troviamo a poco, sì. Eh, ma costa tanto. È qualcosa di più costoso ancora. No, basta, 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 basta. Vi ho dato un'occasione e l'avete sprecata tutti e tre. Quindi adesso entriamo in casa. Entriamo in casa e decidiamo cose normali da comprare. Ok. Allora, votiamo tutti insieme. Io direi un sacco di cose per la cucina. Il tavolo, le sedie. Allora, tavolo. Qualche elettrodomestico, sicuramente. Tavolo. Tipo microonde. Cibo. Sedie. Un microonde per scaldare il cibo. Che dite? Il cibo, cibo. Il cibo, certo, quello è ovvio. È scontato. E' tranquillo, ci sono sei biscotti che le barbabietole. Ragazzi, ho una domanda, ho una domanda importante. Il tostapane lo compriamo? Perché a me piace un sacco fare i toste. Ho spiegato anche i consolini come si fa il tost perfetto. I consolini sanno esatto come si fa il tost perfetto. Mi piacerebbe molto prendere un tostapane. Ok, e in cucina, secondo me, per adesso ci possiamo arrangiare così. Siete d'accordo? Sì. D'accordissimo. Sì, perfetto. Dopodiché, il soggiorno iniziamo a farcelo o aspettiamo un po' di avere più soldi? Eh, io direi che... È fondamentale. Allora, aspettate. Prima del soggiorno, secondo me, è meglio comprarci dei letti. Ok, allora, aspettate. E oltretutto, io vi faccio notare una cosa. Qua manca il water. Il bagno non c'è il water. Come manca il water? Ragazzi, c'è la cartellina, ma non c'è il water, capito? No, espi. Che c'è? Espi, espi, espi. Ci si fa il bagno lì, esci fuori. Non c'è la doccia per fare il bagno, la vasca, non la water. No, 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 no. C'è anche più spazio. Aspettate, aspettate. Abbiamo due piscine? Non la possiamo usare come water, questa? Cambiamo casa, ti prego. Io provo subito. Cambiamo casa. Non guardatemi. Vabbè, quindi direi i letti per dormire e il water. Stai, secondo me la lista può andar bene così, anche perché non vi sopporto più. Andiamo in città e cerchiamo di comprare tutto. Se i soldi non bastano, facciamo un altro lavorettino, diciamo, improvvisato e ci guadagniamo qualche altro soldo. Io espi. No, per favore. Sì, per l'idea, sì. Accetto, accetto. Sono già passato per la schiavitù. Forza, forza, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Eccoci qui, eccoci qui. Andiamo, andiamo, andiamo. Forza, 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 forza. Andiamo a fare shopping. Non dovremmo essere così felici di fare shopping. Io e Spi siamo sempre felici di fare shopping. Io sono felicissimo, tesoro. Andiamo, forza, 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 forza. No, 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 Luca, Luca. E Spi, non ti trasformare, per favore. No, bloccate la sua trasformazione. Rimani tranquillo oggi, su. È tutto quel rosa che ha addosso. Fittiamo, mi vedete di diventare rosa, anche di pere. Ecco, io partirei da qua, perché qua è una sorta di Ikea. Vendono un po' di tutto ed è pieno. Ma c'è davvero un sacco da box, per è? Ma davvero? Guarda. Dove? Di sopra, venite a vedere un sacco da box. Ma dai, io scherzavo, ma ce l'ho davvero. Lo compri, Steph? È bellissimo. Sono bellissimi. Allora, se non costa molto, lo mettiamo in cantina, ok? Io lo volevo nella camera da letto. No, Fede, nella camera da letto non te lo metto, dai. Ci vuole dormire insieme a quel sacco da box. Eh sì. Deve sempre esagerare lei. Magari mi sveglio, sono nervosa e ce li ho lì a casa di mano, scusate. Steph, c'è un piccolo problema. Dimmi, io stavo già facendo shopping. Ma se siamo di Kea, lui non è svedese, non è che ha tarocca. Beh, ma cosa ne sai se è svedese o meno, Espy? Non lo puoi sapere, Espy. È vero, però non è abbastanza svedese. Ma, Espy. Io chiedo. Espy. Espy. Sì, che c'è? Che cazzo? Perché stai importunando adesso il commesso? Così? Che cosa prende? Si è fissato su sta cosa degli svedesi, ragazzi. Io non so che dire. Ogni tanto li prende così. Ignoriamolo. Datemi una mano. Quindi guardate tutti insieme. Guardiamo tutti insieme le cose che qua bisogna decidere. Ok, dove sei? Dove stai guardando? Quanta bella roba che c'è. Io partirei dai letti, perché qua il letto è importante e non ce li dobbiamo dimenticare. Prendetevi i letti quelli a forma di macchina. Quelli a forma di macchina. Che belli, cavolo. Costano tanto, però. Costano tanto. Luca, cosa facciamo? Ne prendiamo due singoli o uno in comune? No, due singoli, ragazzi. E se loro prendono il racer, spendono 4.000, noi 1.000 e ci rimangono già soltanto 2.000. Dovete scegliere o rinunciamo a tantissime cose nel resto della casa o per adesso dormite nello stesso letto. Direi, direi... Va bene, dai, Luca, se tu ti stringi, visto che occupo tre quarti del letto, ne prendiamo uno insieme. Prendo quindi un altro letto matrimoniale? Sì. Ma perché hai fatto questo? Dai, Luca, devi sopportarlo per qualche giornata. Poi, lavorando, 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 avremo i soldi per qualcos'altro. Ma lo stai, prendi anche i cuscini. Ah, hai ragione. Allora, 4 cuscini. 4 cuscini, sì. Dai, cosa ho trovato? C'è il ring da boxing. Ma dove? Dove, Luca? È vero, costa 10.000. Prendiamo solo quello per Ferenichi. Ma dai, dov'è? Dov'è? Allora, cerco ring. Ragazzi, costa 10.000 e abbiamo 7.000 in totale. Tornate seri. Dai, su. Dei poveracci che non lavorate. Ferenichi, sei tu che eri in piscina, eh. Datemi una mano che arrediamo la cucina. Assolutamente, sì. Allora, Espy, passami tutto quello che hai. Ok, però non mi va di spostare i mobili. Ti passo tutto io. Eh, passami tutto, io piazzo tutto. Ok. E anche perché non mi fido molto. Partiamo dal, diciamo, mettere il nostro cibo in frigo o portiamo... Se non va male, certo, no? Dai, mettiamo... Ok, sì, hai ragione. Se non va male, sì. Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Devo mettere il mio a posto. Allora, facciamo. Lo so, anche io. Come se avessimo tanto cibo. Abbiamo uno di questi da mettere e lo posizioniamo qui sotto. Guardate qua, che bellino. Uh, bello che è. Che odolino. Che buono. Guardate. Oddio, vabbè, non è proprio qualità. Somma. Capito? No, è celza, però va bene, va bene, va bene. Secondo me non fa schifo. Secondo me non fa schifo. Poi abbiamo, vorrei capire, due fragole che dobbiamo dividere a spicchi. Che bello, ma stanno anche in piedi queste fragole. Sono bellissime. Potevamo comprarne un po' di più, ragazzi. Avevamo troppi soldi. Due carotine. I soldi alcuni li ho fatti solo io qua, quindi non ti lamentare. Dopodiché le pizze che sono troppo grandi per essere messe in frigo. È vero. Quindi ho deciso che le pizze ce le mangiamo oggi. Esatto, direttamente al nostro stocco. Ok, però prima di mangiare dobbiamo posizionare tutto il resto. Allora, il microonde, secondo me, può essere bellino messo qua. Sì, qua. Mi piace? Bellissimo. Perfetto. Si può anche azionare, fammi vedere. No, non mi fa premer i tasti, peccato. Dopodiché, il tostapane a me piace tantissimo qui. Adesso vi faccio vedere l'idea che ho avuto. Qua così. L'idea che ho avuto. 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 Bianco, magari. Bianco lo puoi fare? Ci provo? Vai, sì. Il microonde non so perché mi sa proprio di bianco. Non so cambiare colore, scusate. Vabbè, lasciamo perdere steve. Ecco, sono delusione di volta. Vi propongo le cose, ma poi non le so fare. Io ho detto, dai, ci facciamo anche il microonde carino e bianco, invece no. Vabbè, dai, metti il tavolo che è la cosa più importante. Allora, no, non è questo qua. Ma come l'hai messo sto tavolino? Ho sbagliato, ho sbagliato. Abbiamo comprato il tavolo bello. Sì, sapete, è un po' grande. Quello gigantesco. Ma davvero? E guardate quanto è gigante. Ma metti il che, perché spunta anche un po' di qua, tipo. Così, vi piace? Sì. Eh. Sì. No, un po' più centrato. Quindi dici così, scusami? Esatto. Sì, sì. È molto, molto carino. Ok. Allora, secondo me, dovrebbe andar bene. Allora, mettiamo le nostre bellissime sedie. Quindi una da questa parte, una da questo tavolo, sedie, microonde, tostapane, frigo pieno di cibo. E adesso guardate cosa vi metto nel tavolo. Guardate che meraviglia. Ditemi che ho sbagliato a comprarle. Allora. E vediamo quello che penso io. Prima pizza. Sì. La pizza. Mangiamo. No. No, no, no. No, no, no. Finita. Allora. Prendi anche la seconda. Anche la seconda. Ma se l'hai mangiato a lui, come hai fatto a essere così veloce? E Luca? Luca è andato in bagno per cinque minuti e gli finisci la pizza così. Allora, vi siete mangiati un'intera pizza dovevate aspettare? Ma giusto, si doveva dividere. Capito? Mi avrebbe mangiato una in due. Tu una da solo. Esatto. Tu una da solo. Allora. L'avete mangiata talmente tanto veloce che avevo paura che vi mangiasse anche la mia. Vabbè, 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 vabbè. Espi, vuoi in questa stanza o nell'altra stanza a letto? Devi scendere. Dove vuoi in letto? È una tua responsabilità. Mi sa che... Però qua c'è la vista. È difficile la scelta. Secondo me, Espi, ti do un consiglio. Steph, cos'hai fatto? Steph, cos'hai fatto? Steph, cos'hai fatto? Ti metti lì le pareti a posto. È una vendetta. Così impara ad avere la casa, la parte bella della casa. Lascialo così, perfetto. Sì, a te dovrebbe piacere. Comunque, se hai un consiglio, secondo me, è letto qua al centro. Perché c'è la vista. Questa sarà una gigantesca cabina armadio, con tutte le nostre... I nostri vestiti. Ma cosa ve ne fate? Con tutti i vestiti fucsia di Espi. Espi, sono i miei. Espi, il vaso lo posso spostare? Ah, in realtà era un punto fondamentale. Sì, dai, spostalo, mettilo qui tranquillamente. L'ho messo all'angolino lì, guarda, va bene. Sarà un porto ombrelli. Andiamo. Esatto. Dai, almeno sarà utile per qualcosa. Ok, letto, lo giro, lo sistemo, lo attacco al muro. Guarda che bello. Bello. E che colore vuoi le lenzuole, Espi? Perché si può scegliere? Certo, puoi cambiarlo. Mi sa un violetto pallido. Violetto pallido. Così? Guarda che così carino. Luca si arrabbierà tantissimo. Mi sa che Luca si arrabbierà tanto, ma mi piace la cosa. Lasciale pure così. Non possiamo fare queste cose quando non c'è Luca, però. Facciamo un prank a Luca. Facciamo così. Povero Luca. Come si comporta quando torna. Reagirà malissimo, reagirà malissimo, io ve lo dico. Allora, mettiamo anche i due cuscini. Perfetto. Uno e due. Si possono mettere i colori dei cuscini? Sì, penso di sì. Perché così loro possono distinguere. Esatto. Allora, aspettate. Così uno è di Espi e l'altro... Glielo facciamo blu di Luca. Dai, sì, ci sta. Blu mi piace, blu mi piace. Così almeno su quello non si arrabbia, dai. Facciamo... Guardate che bello è lo spiaggia con il tramonto. Allora, ignoriamo Espi e di che colore facciamo il letto. Scegli tu, Fere. Non lo so. Che colore... Allora, deve essere un colore che piace entrambi. Esatto. Non lo so, rosso? Perché il colore del letto è una cosa strana. Io vi propongo... Le lenzuola hanno un sacco di colori. Vai, è bruttissimo l'ocra poi. Io direi qualcosa sul rosso. Allora... Il lenzuolo rosso? No, vabbè, quello di sotto no. Quello di sotto... Adesso, tipo, per ora metto una cosa così a caso. Tipo qua, dici una cosa del genere. Oh mio. Più rosso? Così? Sì, meglio, meglio. Va bene? Sì, buono. Più o meno, sì, va bene. Un po' più scuro così? Sì, 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 sì. Ok, e l'altro? Sta diventando come Steph, in pratica. Guardatelo. Esatto, è vero. Ah, guardate così? Così sì, ci sta. Guarda che bellino. Opla, e opla. Ok, abbiamo anche noi il nostro lettino e la stanza vuota. Però, dettagli. Ma poi l'arrederemo. Spera che sia riuscissimo di lasciare un bel like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti.